oggi parliamo di medicina estetica quando utilizzarla perché utilizzarla e se utilizzarla allora facciamo un ragionamento molto onesto come sempre e cerchiamo di capire quali sono i vantaggi e quali sono invece le inutili accortezze o gli inutili accorgimenti che prendono le persone che decidono di fare degli interventi di chirurgia estetica ovviamente io non parlo degli interventi di chirurgia estetica in generale io sono favorevole alla chirurgia estetica sono favorevole a quelle donne che utilizzano la chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto per avere una conservazione migliore di un aspetto esteriore soprattutto con l'avanzare dell'età sono d'accordo e favorevole a quelle donne che si curano utilizzando gli effetti della chirurgia estetica senza chiaramente esagerare oggi siccome mi è stato chiesto più volte parlo della chirurgia estetica intesa come miglioramento di pancia addome glutei fatta in maniera dissennata cosa vuol dire in maniera dissennata se voi avete visto e sicuramente avrete visto trasmissioni tipo vite al limite vi sarete resi conto che grandi obesi persone con tantissimo peso da perdere quindi con eccessivo sovrappeso alla fine di un percorso di dimagrimento di revision form quando hanno raggiunto l'obiettivo finale o comunque sono molto vicini all'obiettivo finale sono costretti in quel caso a ricorrere alla chirurgia estetica per rimuovere tutte quelle masse di pelle in più che si ritrovano nel corpo quindi è a quel punto un intervento funzionale e non soltanto estetico evidentemente perché lo fanno alla fine perché ragionevolmente voi non potete pensare di ristrutturare una casa e di mettere lontiata in una casa che deve essere completamente demolita e rifatta non potete pensare di rifare il bagno quando ancora dovete rifare l'impianto elettrico dovete riposizionare i muri portanti o altro allora il problema qual è è che molto spesso la gente ricorre alla chirurgia estetica come la risoluzione come la scorciatoia per avere delle gambe più magre per avere un gluteo più tonico per non avere la pancia quando invece tutto il resto è completamente da rifare allora non potete pensare di fare un addomino plastica se ancora avete 30 kg da perdere e avete magari delle gambe inguardabili avete dei glutei deformati avete un seno cadente avete le braccia appese sì probabilmente 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 con l'addomino plastica avrete una pancia meno prominente probabilmente il vostro punto critico ma tutto il resto è completamente da rifare non potete pensare di fare una liposuzione per togliere localmente quell'adipe e poi tutto il resto è da rifare dovete ragionare e capire una volta per tutte che le scorciatoie non esistono va benissimo la chirurgia estetica ma alla fine di un percorso quando voi avete fatto tutto il possibile in maniera naturale quindi cambiando il vostro stile di vita cambiando il vostro regime alimentare facendo attività fisica allora alla fine ho fatto tutto manca quel pezzo vediamo se con la chirurgia estetica posso migliorarlo perché non è mai risolutiva è chiaro che non sto parlando di una rinoplastica non sto parlando di una mastoplastica additiva dove le tette te le sei giocate quindi è il caso di rifartele perché magari hai il crucio di avere le tette svuotate o di non averle proprio sto parlando però di scorciatoie che voi spesso ricercate pensando di risolvere io ho visto delle fotografie di clienti massacrate perché magari avevano un vuoto dove avevano fatto la riposizione e poi magari sono ingrassate ulteriormente e quindi tutto intorno è ancora più accentuato quel difetto quindi fatelo rivolgetevi a professionisti seri ma solo alla fine non pensate che sia una scorciatoia risolutiva se prima tutto intorno è un delirio